Il pezzo del cuore che l'angelo Zehutiel, un po' difficile da dire, Zehutiel qui è Dio mi dà merito, o il merito che Dio mi ha permesso di acquisire, è il chakra del merito, dobbiamo meritare qualche cosa e questo si fa amando, molto semplicemente il livello di consapevolezza numero 4, poi vedremo a che lettera appartiene, è quello del cuore e lì c'è la capacità di amare in modo disinteressato. L'amore si può esprimere anche in altri modi, nel terzo chakra aiutando fisicamente qualcuno a attraversare la strada, un esempio, o comunque in una famiglia, il lavoro che uno fa per tirare sui figli, è disinteressato fino a un certo punto, perché proprio c'è un istinto nell'essere umano di fare delle cose per la propria famiglia. A livello del cuore c'è un amore più nobile, proprio l'amore anche dalle tonalità romantiche, poetiche, transpersonale, quindi non soltanto uomo-donna, anche l'amore idealistico che porta qualcuno a aiutare le popolazioni del terzo mondo, i poveri. Questo è il centro del cuore, l'angelo del merito, Dio mi dà merito, se vogliamo acquisire merito bisogna far funzionare quel luogo lì. al di sopra si arriva al luogo dove c'è la tiroide, poi vi dico casomai le ghiando, anzi vi dico subito, sotto ci sono, e il chakra del cuore è il timo, meraviglia. Cosa dice la medicina ufficiale? Che il timo non funziona più, si atrofizza, vero? Abbiamo il timo atrofizzato, da bambini funziona e poi a un certo punto lo perdiamo. Vi rendete conto che cosa sta dicendo la medicina? Che non sappiamo amare, che amiamo solo se siamo bambini, potete leggere molto bene quella ingiunzione evangelica, quel consiglio, chiamiamolo, del ritornare come bambini, facciamo funzionare il timo, rimettiamo in funzione il centro del cuore, dobbiamo ritornare capaci di amare in un modo totalmente altruistico e questo è il centro. Dopodiché si sale al quinto livello la tiroide, la gola e lì ci sono tutte le funzioni della mente razionale che sa analizzare, pensare come catene di causa-effetto, verbalizzare, trasmettere, domandare, rispondere, tutto sul piano di quello che chiamiamo anche l'emisfero cerebale sinistro. Non è solo matematica e filosofia, c'è anche la poesia sul livello della gola, quindi è l'uso, avete tutto l'uso della parola, da quello più legato ai bisogni pratici, diciamo nell'economia aziendale, fino alla poesia e al canto. Tutto questo è nella gamma del centro della comunicazione, centro della parola, lì c'è un angelo che si chiama Hasdiel, l'ofan, vi ripeto si chiamano i sette ofanim, le sette ruote, l'ofan vuol dire ruote, l'ofan della gola si chiama Hasdiel, Dio è il mio amore. Quindi è come se in questo nome ci venisse insegnato che il quinto chakra e il quarto hanno un rapporto speciale tra di loro. La voce è lì per esprimere l'amore del cuore, molto di più che non per venire utilizzata per spiegare, che so io, una formula matematica o un fenomeno che avviene nella presente complicata struttura economica della società. Questo è il centro della gola. I primi cinque centri di cui ho parlato fino adesso formano un'unica unità. La Kabbalah dice che il modo naturale di dividere il sette 5 e 2 e da dove l'abbiamo capito? Semplicemente studiando il sistema solare. Ci sono sette corpi nel sistema solare antico, senza i telescopi non si era ancora visto né Urano né Nettuno né Plutone e questi sette corpi sono cinque pianeti e due luminari, il sole e la luna. Ecco, e quindi abbiamo i primi cinque chakra che sono appannaggio di tutta l'umanità. Abbiamo visto che i primi tre li abbiamo in comune con gli animali, i primi cinque sono appannaggio di tutta l'umanità. Tutta l'umanità può utilizzarli e li ha in realtà scoperti utilizzati. Tra la gola e la testa c'è una strettoia, questo è il vero scille cariddi, questa è la vera porta stretta che va attraversata. È la grande iniziazione, passare dal corpo alla testa e nella testa si trovano altri due centri che sono molto poco utilizzati nel piano sociale statistico. Statisticamente parlando i due centri superiori sono i meno utilizzati e sono qui per dirvi che questa situazione non può e non deve continuare. Il compito di ogni essere umano è di attivare, di funzionare con tutti e sette questi centri di consapevolezza, se no non riusciamo a compiere nemmeno un terzo, un quarto della missione che siamo qui a svolgere, sia sul piano individuale che su quello familiare e su quello collettivo, senza la luce e la guida dei due centri superiori. Il sesto dal basso corrisponde alla ghiandola ipofisi che è una ghiandolina che sta appena appena sotto la pineale dentro, ha un sacco di funzioni nella biologia del corpo umano. Corrisponde ad un potere sottile della mente che va ben oltre il razionale, è la capacità di leggere, di interpretare, di analizzare il simbolo. Così come il ciocca della gola funzionava con le parole, i concetti, siamo bravissimi in questo, spero. E quello, il centro numero 6, che è l'angelo Raziel, forse qualcuno di voi ha sentito questo nome, c'è un libro famoso che si chiama Raziel, il primo libro di Aqabalà, significa Dio è il mio segreto. Il sesto centro funziona con le forme simboliche, un quadrato, un triangolo, un numero, mi dicono tutto un insieme di cose. Il sesto centro va nell'alfabeto sacro e infatti è quello della Kabbalah, l'angelo Raziel, il primo libro di Kabbalah si chiama con il nome dell'angelo Raziel perché comprendere da quella sequenza di lettere tutto un messaggio che va ben oltre quanto la teologia, la filosofia, la scienza, mi possono dire con i loro ben solidi quinti chakra. C'è un livello in più. L'abbiamo tutti, abbiamo questa ghiandola nel corpo umano, funziona, per fortuna non è atrofizzata come il timo, se no staremmo freschi, ma dobbiamo diventare consapevoli della sua portata spirituale, dobbiamo farla funzionare a pieno regime anche nel mondo spirituale. Ripeto, lì assiede anche l'intuizione, la chiaroveggenza, la telepatia, tutte doti che appartengono quasi al mondo immaginario, all'irreale, al fantascientifico, pur se nella tradizione antica si afferma, sono consolidate dall'esperienza di tanti maestri che hanno vissuto, sperimentato, utilizzato le funzioni di chiaroveggenza, telepatia, di profezia. Il sesto chakra è nutrito, ripeto, dall'alfabeto sacro e vedremo nella continuazione del nostro incontro la potenza di queste lettere associate ognuno dei livelli di coscienza. Ce ne rimane uno, il centro della corona è la ghiandola pineale, è un luogo di estrema pace e serenità, è come un ritorno a casa, è il ricongiungimento della dualità, si va oltre sicuramente la parola ma anche il simbolo, la struttura grafica, la vibrazione, è praticamente un luogo di profondo silenzio contemplativo, un luogo di pienezza. l'angelo, il settimo fanem degli fanem si chiama sandalfon, questa disinenza on è molto rara tra gli angeli ed è la categoria maggiore degli angeli, sapete tutti che gli angeli hanno come disinenze oia o el, questi sono gli angeli del quotidiano, c'è una categoria di angeli on in italiano direste one, grande, panettone, casone, affarone, dove mettete un one vuol dire grande, i primi che hanno capito il segreto della disinenza on furono gli egiziani, tanto è vero che i faraoni avevano tutti una disinenza on, gli inglesi anche se la cavano perché per dire accendi on, man, you on, quindi capite il primo e l'unico dei sette fanem che ha quella desinenza governa il più alto dei sette centri di consapevolezza sandalfon, vedremo nella continuazione anche le proprietà di questo angelo ma in breve accontentatevi per adesso, è il luogo della riconciliazione degli opposti dove tutto ritorna in uno stato di unità e di serenità di pace. Se parte di quello che ci proponiamo non è soltanto uno studio intellettuale ma è di avere delle istruzioni anche pratiche, ebbene ci occuperemo dei legami tra i sette centri di consapevolezza e le lettere, vi ho detto prima che queste sette lettere ebraiche sono delle vere e proprie chiavi di attivazione, non ve lo posso dimostrare in un modo scientifico ma le lettere ebraiche hanno un effetto incredibile sulla struttura spirituale dell'essere umano come sapete che poi è collegata con quella psicofisica. In virtù della loro forma, del loro nome e del loro valore numerico questa triade di vettori, forma, nome e numero, agisce su delle corde sottini invisibili dell'essere umano e attiva determinate funzioni. Allora le sette lettere che governano i sette centri di coscienza le vediamo dall'alto al basso, sono la lettera Bet che è la seconda, il cui nome significa semplicemente casa e la possiamo, se vi piacciono gli esercizi, immaginare proprio come appoggiata sulla testa questa lettera che vale due, il cui nome significa casa. Ora facciamo il viaggio dall'alto al basso, prima l'abbiamo fatto dal basso all'alto, la seconda lettera dei sette centri di consapevolezza, quella che governa il terzo occhio, chiamiamolo, quindi il centro della fronte, è la Gimel e la terza lettera dell'alfabeto ebraico vale tre e il suo non vuol dire parecchie cose, ma quella che scegliamo nel contesto di questi incontri è l'immagine del ponte. Gimel in ebraico, anzi meglio in aramaico, significa ponte, gamla, è un ponte tra il mondo della perfezione e quello della relatività. La lettera che governa invece il centro della gola, quindi il passaggio di Scille e Cariddi, è la Dalet, la quarta lettera dell'alfabeto ebraico, il cui nome significa semplicemente porta. Poi vi vorrei far notare e anche chiedere a ognuno di noi di fare un esercizio di voi, di visualizzare, di cercare di connettere queste immagini, fino adesso siamo tre, una casa, un ponte e una porta. Due, tre, quattro. Se scendiamo al centro del cuore, che abbiamo detto essere a metà strada, lì c'è un balzo, si va all'undicesima lettera dell'alfabeto ebraico, che è una kaf, come se fosse l'italiano cima e speculare, perché dall'ebraico si scrive da destra a sinistra, e kaf significa nel contesto di questi nostri incontri palmo della mano, come il palmo della mano. Quindi abbiamo la casa, il ponte, la porta e un palmo di una mano. Questa lettera vale 20, già vi accenno che oltre a indicare il palmo della mano, questa lettera è l'iniziale della parola corona, come anche in italiano, in ebraico corona si dice che inizia con una kaf e qui c'è un insegnamento molto importante che a livello del cuore troviamo come un contatto diretto con il chakra più alto, con quello della corona. Nei momenti dell'amore più vero, più aperto, contattiamo il più alto dei livelli disponibili. Questo è anche possibile in virtù del fatto che il quarto centro è a metà strada esattamente sia in salita che in discesa, questo è un luogo di grande equilibrio, grande particolarità, e inoltre un'altra delle conseguenze di tutto ciò è che non bisogna essere dei superman, avere il settimo e il sesto centro super funzionanti per cavarsela nella vita, basterebbe in realtà avere il centro del cuore aperto. Già lì abbiamo il contatto con il trascendente, questa è la lettera del trascendente, scendendo un po' più in giù arriviamo al plesso solare, al terzo centro dal basso, e lì abbiamo la lettera P, una forma un po' strana, è la diciassettesima lettera dell'alfabeto ebraico, ma vale 80, e significa bocca, semplicemente, vedete delle immagini anche molto antropomorfiche, infatti è proprio una bocca psicofisica che abbiamo visto esserci nel plesso solare. La lettera successiva, la chiave del plesso ipogastrico dell'Hara è infatti una Resh, Hara, Resh. E la terz'ultima lettera vale 200, e il suo nome vuol dire testa. Mi direte cosa fa una testa all'imbasso? Allora io chiedo voi, perché si chiama intestino, quello che abbiamo dentro, quel lungo budello che abbiamo dentro la pancia, intestino, una piccola testa dentro, se vi ricordate il luogo della guarigione, dell'alimentazione, bisogna alimentarsi con la testa, voglio dire un momento, non capitemi male, non in un modo intellettuale, ma bisogna avere la testa quando si sceglie un cibo, non soltanto delle reazioni istintuali o grossolane. E la guarigione dipende dall'avere la testa lì, da avere una testa funzionante in un luogo che è estremamente fisico, molto istintuale. La testa vuol dire organizzazione, vuol dire struttura, vuol dire conseguenzialità, sapere i pro e i contro di ogni cibo, di ogni elemento che ingeriamo. Questa è la nostra piccola testa che sta giù nel penultimo centro. Non so se riusciremo in questo contesto, di questi incontri, ma nella cabala pratica, ripeto, c'è tutta una serie di esercizi di canto, sia delle lettere che degli angeli corrispondenti che servono per attivare, per dare potenza a ognuno dei centri legati ad essi. L'ultima di tutti i centri è anche l'ultima lettera, il centro più basso abbiamo detto essere quello della sessualità, è governato dalla lettera TAV, che significa in questo contesto sigillo, anche incisione. Sigillo nel senso che la nostra energia scorre anche dall'alto al basso, dal basso all'alto. Nel cammino di discesa questo è il punto più basso, non possiamo farlo andare oltre, perché andrebbe a finire in un mondo di negatività, di forze, della distruzione. Ricordatevi che l'energia sessuale è anche quella della creazione, è anche psicologicamente molto legata all'aspetto artistico, creativo dell'individuo, fisicamente la procreazione avviene tramite quella forza, ho detto prima, non essere soltanto una di procreazione, ma anche di piacere, di comunicazione. Nella cabala ebraica il piacere dell'individuo è importantissimo, è terapeutico, chiaro va ottenuto e gestito in modo che non scenda sotto il sigillo, ci deve essere un sigillo, ci sono tanti insegnamenti esoterici che possono venire dati in fasi successive, non certo in un incontro introduttivo, sul perché questo centro si chiama il sigillo. La lettera TAF è anche legata ai residui, alle incisioni che abbiamo dalle reincarnazioni precedenti, sono tutte lì, nel centro più basso. Bene, ora rifaremo il cammino in senso contrario e vi ripropongo queste immagini, il sigillo, la testa, la bocca, il palmo della mano, la porta, il ponte e la casa. Non chiedetemi di darvi la soluzione del reibus adesso, perché vi ho citato prima il re Salomone, forse vi ricordate di una delle sue molte donne, si chiamava la regina di Saba, che andò apposta a incontrarlo, la regina di Saba viveva in Africa e con un seguito di numerosi soldati e dignitarie di corte si recò a Gerusalemme, in quei tempi vi ricordo non era poi così facile andare dall'Etiopia a Gerusalemme, era un viaggio sul serio, solo perché era incuriosita dalla sapienza di questo re e sapete come si filarono, perché ovviamente ebbero una storia, detto tra di noi, ma come fecero a corteggiarsi? Facendosi dei rebus, miei cari, non era il quiz, credetemi, è uno dei modi più interessanti per stimolare nell'altro l'attenzione dell'anima nella profondità, nel cercare la capacità dell'altro di interagire con la parte più spirituale, perché una vera relazione tra uomo e donna può diventare tale solo se c'è il click, vi piace la parola click, tra le due anime, non basta quello tra i corpi, ci vuole certamente, indubbiamente, anche quello più sensuale, più delle personalità, ma se non c'è un'affinità tra le anime il click non avviene, non è il mio proposito di cliccare con tutti voi a livello di scelta di coppia, per carità, ma di riportarvi uno dei quiz, o meglio dei rebus, che c'è nella sequenza delle lettere, chiede a ognuno di voi di mettere insieme queste sette immagini, casa, ponte, porta, mano, bocca, testa, sigillo, di attivarne nella vostra vita.